Sei persone, tutte pregiudicate e originari dell'Interland Napoletano, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono state sorprese ieri sera dai carabinieri di Nocera Inferiore al comando del Maggiore Gabelloni, mentre in un appartamento in via Acquavitari, a Scafati, erano intenti a tagliare e confezionare dosi di cocaina. La famiglia è stata trovata in possesso di circa 400 grammi di sostanza stupefacente. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno fatto irruzione nell'appartamento ieri sera a seguito di un'attività investigativa partita da un'indagine dei carabinieri di Sarno su un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti. Si è così giunti alla famiglia che doveva presumibilmente rifornire tutta la zona di sostanze stupefacenti in occasione delle feste natalizie di Capodanno. Ad essere tratti in arresto il 45enne Giuseppe Mancini di Torre Annunziata, Ciro Mancini di 47 anni originario di Torre Annunziata ma residente a Scafati, Graziella Gallo di 37 anni di Torre Annunziata, Raffaele Mancini di 22 anni residente a Scafati, la quarantenne Maria Rosaria Supino sempre residente a Scafati e Aniello Mancini di 64 anni di Torre Annunziata. Nell'appartamento di Scafati sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche circa 3.000 euro in manconote di vario taglio, presunto provento dell'attività illecita di spaccio, nonché due bilancini e materiali vari per il confezionamento. I arrestati, dopo i rilevi fotografici e le formalità di rito, sono stati tutti condotti presso il carcere di Salerno a disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Grazie a tutti.